Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in una nuova diretta qui nel canale viola e nel canale verde su youtube, ispezione di video della diretta come sempre insomma, ormai avete capito come funziona no? bene, come state, come non state? ringraziamo subitissimo chi si collega adesso a vedere mentre gioco andiamo avanti con Atomic Earth dobbiamo ricostruire l'amica della robot Claire, dobbiamo raccattare un po' di arti robotici un po' in giro quindi stiamo setacciando un po' la zona, il complesso qui del militare eccetera non mi ricordo come si chiama, ci sto girando intorno ok? e quindi completiamolo perché abbiamo finito anche Perfect Dark finiamo anche questo per poi iniziare la nuova stagione Yes perché a settembre arriva una nuova grafica intanto per le dirette, ok? quindi mi sto attrezzando per una nuova grafica e cambierai il logo su youtube per uniformarlo su tutte le piattaforme dove condivido un po' di materiale quindi lo stesso logo per tutti e poi aggiunta un po' di rubriche nuove adesso non ve le elenco perché voglio farvi una sorpresa però oltre gli unboxing, il saluttino giocate games with friends con amici quindi molti eccetera eccetera metterò anche qualcosa in più vediamo se riesco a buttarci dentro anche qualche rubrichetta in più tipo non so, parlare di una news vedere cosa ne pensate oppure dei consigli riguardo che fatemi dire che switch prendere tipo OLED, switch normale o Lite oppure aspettare la switch 2 comunque un po' di cose così insomma dai vi lascio un po' sulle spine insomma diciamo ma andiamo avanti subitissimo ah e ricordo per chi per chi mi vede nuovo nuovo metto tutti gli indirizzi dei social sulla descrizione dei video quindi potete raggiungermi dove volete e appunto ringrazio poi chi mi segue durante le dirette chi chatta qua con me insomma durante la diretta e chi mi mette mi piace su youtube e ovviamente a tutti gli iscritti grazie grandissimo e gli nuovi iscritti mi farebbe piacere se vi iscrivete insomma siamo quasi quasi a 300 dai 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 grande 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 quando le ciance saluto tutti chi mi sta guardando intanto e andiamo avanti con questo gran gioco di Atomic Earth allora spero sentite fatemi un feedback chi si collega bene andiamo avanti di qua più vicino devo capire di qua perfetto andiamo di qua nuovo ciclo di scansione modulo arto braccio destro trovato posizione piano vavilov trasmissione ostacolata dati incompleti qual è il problema perché non riusciamo a individuare il modulo questa volta temo di non poterti aiutare c'è una qualche interferenza su questo piano le possibili fonti dell'interferenza comprendono una schermatura elettromagnetica o la presenza di un oggetto grande dalla forma allungata un oggetto grande dalla forma allungata vabbè allora fatemi vedere devo seguire ok vai di qua qua manca no sono ritrovato come prima porca eccolo perfetto non ci sono andiamo avanti e qua wow c'è una cosa gigantesca qui e tanti piccoli stronzetti e quelli qua gli stronzetti gli stronzetti sono arrivati e vai e quanti cazzo ce ne sono qua via via cura 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 iniziamo proprio bene iniziamo proprio bene ciao marco grazie che ti sei unito alla diretta e grazie che sei passato per un saluto batterie scariche grazie che sei passato ti delizio un po' con atomic hertz cosa dici a parte le figure di merda che va bene che muoro vediamo di vediamo poi la pistolina questa qui che abbastanza colpi è molto molto letale cambiato anche vanni comprendono una schermatura elettromagnetica o la presenza di un oggetto grande dalla forma allungata un oggetto grande dalla forma allungata suona strano suona strano cosa sarà mai wow c'è una cosa gigantesca qui tanti piccoli stronzetti esatto piccoli stronzetti qua fanculo che lancia anche le seghe esatto merdoso fate cazzo ce ne sono oh che cosa dovrei farci perfetto pistolina qua merita eh perfetto andiamo a vedere se c'è qualcosa altro andare a cogliere andiamo all'ascia questo secondo me è un boss un vermone qua robotico commento che ci devo fare qualcosa cos'è aspetta è un gioco per bambini è una chiave rompicato wow e a che serve penso che attivi qualche tipo di processo ok come funziona ok tipo snake ok ho capito snake eccolo qua nooo ve lo ricordate sul 3310 mamma mia quante partite che ci ho fatto bravo è un po' che bravo sono eh vede papà di qua di qua dito basta ecco quello il processo che ho appena attivato ma che cazzata fate ah l'arco ah ok grazie tutto qua figlio di puttana di metà mi hai fatto prendere un colpo si fatti c'è mancato poco beh comunque ho recuperato il braccio guarda che bastardi ti sento però dai oh porca miseria marco roba non mi fanno neanche muovere non mi fanno neanche i bastardi vabbè scappo ok 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 mi hai fatto prendere un colpo cazzo c'è mancato poco beh comunque ho recuperato il braccio sembra quello destro ma porca via una nato l'altro è andato un bastardo che lancia amicini adesso c'è il prossimo guarda che scappa un altro grande grande pistolina è un altro cazzoni che che cazzo vuoi tu oh pazzesco 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 allora io direi di mettermi l'adrenalina e l'adrenalina mi carica un po' l'energia un po' alla volta e mi fa fare più scatti se ce l'ho mi hai fatto prendere un colpo cazzo c'è mancato poco beh comunque ho recuperato il braccio per quello destro via via stassi fermo dove sei vieni qua vieni qua vieni qua tutto bastardo c'è il fucine c'è il fucine nato sì perfetto state ferme state ferme altri non vedo un buon sinistro ottimo mamma mia che fastidioso sì sento altri c'è un maledetto qui partono adesso ti accetto ecco ci sei più facemi prendere un po' di roba l'adrenalina fa miracoli sì ragazzi l'adrenalina fa miracoli no perfetto un po' di roba da prendere chi radra ti hai da una mano cosa prendere due là guardate se vi annoio queste cose ma vorrei prendere un po' tutto ok ok a posto chars quindi dopo aver abbandonato l'idea dei connettori beta hanno creato i connettori neurali con potere discrezionale secondo le mie informazioni questa esposizione è molto apprezzata dai bambini di tutte le età ma perché vengono a rompermi le palle qua adesso loro sovietici visto l'attuale andamento dei progressi scientifici maggiore sì se lo dici tu ma 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 porca oh quanti cazzo siete pazzesco guarda quanti cazzo sono merdosi che non siete altro carica tre ce ne sono rimacchio con la mira del pifero carica chars carica vediamo cosa sei fai oh siete duri eh fastidiosi tre col scudo tu vedi andare a fare anche tu ti vogliamo muovere basta ma quanti cazzo vengono fuori qua oh basta ma andate a cagare tutti quanti che cazzo ci fai tu basta basta che miseria oh fanno sudare altri no ah ho finito la pistolina magica basta 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 guarda i coglioni posso andare questo è finito ok ti caccia bene attacchiamo lì ok primo braccio partivo manca braccio e testa ok